Vecchiato Arte dedica una personale all'artista inglese David Begbie un'esposizione di una quarantina di opere dal titolo Solid Air che è stata inaugurata nella sede di via Alberto da Padova. Al vernissage della mostra con il patrocinio del comune di Padova era presente l'artista con presentazione di Massimiliano Sabbion che ha curato il testo critico inserito nel catalogo.